Oggi con Polaris al Museo di Storia Naturale diamo il benvenuto a Paolo Calcidese che è un ricercatore e ci parla delle sue ricerche in campo astronomico. Allora Paolo, di cosa ci parlerai in questa conferenza oggi? Prima di tutto grazie dell'invito e oggi parleremo di quello che possiamo definire quasi una scienza di confine. Andremo a studiare, a vedere come si comportano gli oggetti dichiaratamente più misteriosi dell'universo che sono dei buchi neri o meglio come vedremo nella conferenza le singolarietà spazio temporali perché come spero di riuscire a dimostrare non sono dei buchi neri. Buongiorno a tutti, mi chiamo Altea Tibi, sono una studentessa di terza M del liceo scientifico Gian Domenico Cassini e partecipo al progetto di alternanza scuola-lavoro di astronomia. Oggi quindi ho il piacere di presentarvi il dottor Paolo Calcidese che ci interterrà con una conferenza che già dal titolo suscita molto interesse cioè singolarità spazio temporali, uno sguardo al di là dell'orizzonte degli eventi. Il relatore di oggi è astrofisico, è ricercatore presso la regione Valle d'Aosta dove si occupa soprattutto dei nuclei galattici attivi è insegnante di fisica presso il Politecnico di Torino e è anche un esperto astrofotografo come ha detto prima Alessandra ha pubblicato i libri Gateway to the Sky un viaggio per immagini nel cosmo in due volumi e oggi sono disponibili qua sopra al tavolino e contengono delle immagini ad alta definizione e anche degli antitesti di divulgazione astronomica e quindi per chi fosse interessato sono qui esposti. In questa conferenza il dottor Paolo Cacilese ci aiuterà a esplorare e a comprendere il concetto di singolarità spazio-temporale e ci spiegherà le proprietà fisiche dell'orizzonte degli eventi cioè la superficie di un buco nero inoltre il relatore ci parlerà di buchi neri di evoluzione e morte stellare di buchi neri supermassici andando a verificare il comportamento della dimensione temporale e intussimità di questi affascinanti oggetti e mostrando alcuni dei paradossi più rilevanti e quindi io vi auguro un buon ascolto e una buona conferenza. Grazie, grazie a tutti, 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 grazie a tutti per l'invito a venire qui a fare questa conferenza e grazie ad Asia che non l'ho ancora conosciuto ci sei informata, hai già fatto tutta la conferenza devo dire tutto quello che ha detto lei adesso, l'ha dichiarato comunque, appunto, grazie di essere qua così numerosi allora, la conferenza, un aneddoto sono un astrofisico, come ha detto quindi vado nelle cene con una persona che non conosco viene fuori che sono un astrofisico e quindi mi fanno sempre tre domande cosa è un buco nero e mi hai visto un ufo cosa ne pensi dell'astrologia anche io ho detto, beh, faccio tre conferenze per portare in giro, quindi siamo a posto oggi facciamo questa tanto le domande poi puoi fare una conferenza sugli asteroidi sulla luna, ma i buchi neri la facciamo però mettiamola così vi faccio un breve riassunto di quello di cui sentirete parlare così si sta ancora in tempo ad andare via se volete parleremo di buchi neri in generale e in particolare di buchi neri supermassivi perché mi occupo di questo poi vedremo nel dettaglio che cosa vuol dire essere un buchi nero supermassivo per riuscire ad arrivare a dare una definizione di questi concetti di cui parleremo abbiamo bisogno però di qualche informazione di base che vi darò all'inizio durante la conferenza per riuscire ad arrivare a comprendere appunto la definizione, che cos'è apprezzare fisicamente, che cos'è una superficie di un buchi nero quindi quello che è chiamato l'orizzonte degli eventi per fare questo necessariamente dovremo poter arrivare a l'albert Einstein e quindi utilizzare la relatività generale parlare di curvature spazio-temporali daremo una definizione di singolarità gravitazionale Albert Einstein c'è morto cercando di dare una definizione quindi non è che siamo ancora a fare una decisione però cercheremo di darne una validità scientifica, fisica anche a questo per poi finire in modo un po' più rilassato con quella che possiamo definire una scienza di confine cioè l'applicazione fisica e matematica non è fantascienza utilizzeremo la fisica e la matematica per riuscire a vedere se tutte queste cose di cui si sente parlare specialmente nei film di fantascienza di ultima generazione come Interstellar che sicuramente tutti avete visto quindi parleremo di ponti di Einstein Rose il wormhole i buchi neri quantistici e possibilità di viaggiare nel tempo non se ne va nessuno allora mi presento velocemente per darvi un minimo di curriculum così a, magari un attimo, un po' di validità e anche quello che vi dirò in seguito utilizzerò una scoperta che ho fatto per spiegarvi tutti i concetti importanti di questa conferenza allora io sono un astrofisico che lavora all'osservatore astronomico di San Bartolome in Valle d'Oster sono coordinatore della didattica e dell'evoluzione ma come associato dell'Istituto Nazionale di Astrofisica faccio parte del gruppo WET che è un gruppo internazionale di 41 telescopi in totale sparsi in tutto il mondo nell'ambisfero coreale che tiene sotto controllo questi oggetti un po' particolari che forse qualcuno di voi conosce come Quasa è una categoria di quegli oggetti che studiamo quindi siamo in tanti siamo distribuiti su tutto il pianeta Terra prova per secco monitorare le 24 ore su 24 io utilizzo il telescopio principale dell'osservatorio astronomico della Valle d'Oster che è un telescopio dotato a 2 cm di diametro io e mi tra lavoro di notte con la sua finestra di osservazione aperta quindi sono membro di questo WET dal 2006 e è successo qualcosa nel 2016 che mi ha portato insieme poi a un gruppo di collaboratori appunto del gruppo WET a pubblicare questa nuova scoperta sui buchinelli spermassici sulla rivista Nature che è la rivista più rilevata del mondo e grazie a questa pubblicazione sono in turno però per non spiegarmi solamente di cosa ho visto entrare in dettagli troppo specifici mi è piaciuto parlare un po' più in modo generale di questi oggetti così misteriosi utilizzando la scoperta se siete appassionati dell'astronomia riconoscerete questo campo stellare perfetto non è l'orzavaggio di solito quando faccio le conferenze è l'orzavaggio l'anno sempre fuori non so perché esattamente era per romper il ghiaccio allora prospetticamente all'interno di questa costellazione c'è un oggettino un oggettino che si chiama CTA-102 che è proprio il soggetto che mi ha portato alla scoperta CTA-102 questa è un'immagine del telescopio principale che è un'immagine scientifica correnda quelle belle sono quelle estetiche che potete vedere dopo ma ricca di significato ovviamente nelle immagini scientifiche quello che andiamo a fare è dicando la matematica estrarre tutti i dati che ci interessano ci interessa conoscere CTA-102 è quel pallino lì allora tutti gli altri puntini che vedete sono le stelle della nostra galassia apparentemente lui non è poi così tanto più luminoso di tutte le altre stelle che vedete nell'immagine però mentre gli altri puntini che sono all'interno della nostra galassia stanno a decine centinaia o migliaia delle luci di distanza lui si trova a 8,1 miliardi delle luci di distanza se apparentemente è luminoso come le stelle della nostra galassia è utile che sta facendo qualcosa di molto particolare per essere così luminoso da una distanza così incredibile CTA-102 ha anche una storia molto interessante perché già negli anni 50 anni 60 è stato osservato e siccome non si conosceva ancora la natura di questi oggetti un po' particolari che poi prendono il nome di Quasa addirittura nel 1963 l'astronomo Kardasher propone una soluzione al dilemma di CTA-102 perché si sentivano delle si ricevevano delle gigantesche emissioni dal punto di vista radio provenire da quella zona di cielo dove era bloccato CTA-102 e l'ipotesi che fu fatta nel 1963 era che in quella zona esisteva una civiltà extraterrestre incredibilmente evoluta che in qualche modo sta parlando cercando di parlare con noi molto evoluta perché la scala di Karadajev ha tre tipologie di civiltà extraterrestre di tipo 1 tipo 2 tipo 3 la tipo 1 è una civiltà così evoluta che è in grado di gestire tutta e utilizzare l'energia del pianeta su cui vive di tipo 2 riesce a utilizzare l'energia della stella intorno a cui orbita e di tipo 3 addirittura riesce a gestire l'energia di tutta la galassia in cui si trova questo oggetto lui dichiara dichiarò nel 1963 che il CTA 102 era un luogo in cui esisteva una civiltà extraterrestre di tipo 3 nel 1965 alla fine invece viene classificato come un oggetto di tipo quasa e adesso dobbiamo vedere che cos'è c'è un oggetto naturale che esiste in natura nel nostro universo e andremo a vedere di che cosa si tratta e perché nel 2018 tutto ancora lo studiava comunque è una storicità abbastanza interessante per riuscire ad accettare al meglio quello che vi dirò alla fine dobbiamo però mettere giù qualche concetto base che ci servirà per riuscire ad arrivare alla fine della conferenza allora per parlare di buchi neri il primo concetto che deve essere assolutamente chiaro e che deve essere preso in considerazione è il concetto di velocità di fuga la velocità di fuga che cos'è c'è anche qualche equazione così i ragazzi del liceo Cassino sono contenti si contentissimi la velocità di fuga è quella velocità che deve avere un corpo per riuscire a scappare da un campo gravitazionale ad esempio prendo questa bottiglia la lancio torna giù ma se la lancio e imprimo una velocità di 11 km al secondo questa è una velocità e per me nel suo modo senza propulsione per l'eternità 11 km al secondo è la velocità che deve avere un oggetto per scappare dal campo gravitazionale terrestre indipendentemente dalla gravità in cui ci troviamo la velocità di fuga è diversa perché dipende dalla massa e dal raggio dell'oggetto che prendiamo in considerazione cioè del pianeta per esempio la luna ha una gravità che è un senso di vola terrestre quindi per scappare dalla luna ci vogliono 11 km al secondo solo 2,4 per scappare da Giove già c'è 1,60 per scappare dal sole ci vuole una velocità di 600 km al secondo che è una velocità incredibilmente elevata ma è solamente lo 0,2% della velocità della luce è il concetto portante di tutta la conferenza proprio la velocità della luce esiste poi un certo Newton che ha scritto un'equazione fondamentale che è l'equazione di gravitazione universale che è scritta che sostanzialmente vi dice che la forza di gravità è una forza di tipo attrattiva che esiste sempre in presenza di massa ed è direttamente proporzionale alle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza cioè è detto in termini più gergali più c'è massa più c'è gravità più gli oggetti sono lontani meno c'è gravità però è una forza fondamentale che per me è tutto l'universo mi raccomando non esiste un luogo dell'universo in cui la gravità non c'è l'altra sera ho visto per caso un'altra visione non ce l'ho nella casa di un amico e c'era quello che ho avrono usato con il presentatore Conti Conti che chiama una signora mi fa una domanda per un certo numero di miliardi euro e la domanda era perché sono nauti nella stazione spaziale internazionale della legge e le risponde perché non c'è la gravità io mi metto le mani ai capelli e poi 300 persone cominciano ad applaudire come c'è la gravità e ovunque se la terra e la luna che ha 384.000 chilometri di distanza sono in interazione gravitazionale perché la stazione spaziale sta a 500 chilometri di distanza dalla terra perché lì non ci deve essere ma è che non c'è la stazione spaziale infatti non è ferma la stazione spaziale orbita attorno alla terra ha una velocità incredibile 28 chilometri orari cioè 90 minuti fa il giro della terra a 500 chilometri di distanza dalla superficie terrestre e in quel modo annulla artificialmente la gravità perché si forma una forza fittizia che spinge dall'altra parte che controbilancia l'interazione gravitazionale quindi non è che sono in un luogo dove non c'è la gravità loro vivono a micro gravità o in assenza di peso meglio dire ma se la stazione spaziale si ferma e viene giù come un sasso cioè c'è la gravità lì ok? è ovunque la gravità bene quando Newton tira fuori questa legge molto contento tutti sono molto contenti però non è che funziona proprio benissimo se applicata a tutto il sistema solare se applicata a due oggetti le cose funzionano alquanto bene applicato tutto il sistema solare dopo un po' incominciano comunque delle interazioni gravizzazionali che sbarallano completamente e non rientrano più all'interno dell'equazione quindi anche Newton nei suoi scritti lo dice la mia equazione funziona bene poi quando inizia il delirio scende la mano di Dio e sistemano le cose per un attimo e poi che parte la mia equazione perché non funziona proprio bene? perché l'equazione di Newton va benissimo ma è un'approssimazione della realtà per riuscire ad arrivare proprio al cuore della realtà fisica e della trama dell'universo bisogna aspettare il concetto di gravità secondo Herbert Tyson quindi siamo al 1915 con il trattato della relatività generale e Herbert Tyson fa un passo avanti incredibile perché dà una definizione del concetto di gravità puramente geometrico quindi non ci sono in ballo dei campi di forze come aveva scritto Newton ma ne dà un'interpretazione puramente geometrica cioè fa questo dovete immaginare l'universo come un gigantesco tappeto elastico se voi posizionate degli oggetti sul tappeto elastico a seconda della densità dell'oggetto voi avrete una deformazione della geometria dell'universo locale cioè da piatta cioè da una geometria euclidea diventa una geometria curva posizionate un peso sul tappeto elastico questo si incurva l'universo ha la stessa cosa determinando la formazione localmente di quelle che sono chiamate le curvature spazio-temporale che esistono e c'è la prova sperimentale e chiunque di voi abbia un telefonino o smartphone in tasca in questo momento sta partecipando consapevolemente al più grande esperimento del mondo che dichiara che la relatività generale funziona entro i limiti strumentali al 10 alla meno 11 funzionate ok perché se voi prendete il vostro telefonino e utilizzate l'organizzatore usato in 15 PS all'interno del vostro telefono c'è un algoritmo matematico che fa una correzione relativistica e vi dice perfettamente dove vi trovate e dove effettivamente potete arrivare per un errore piccolissimo perché tiene conto di due cose fondamentali tiene conto del fatto che la Terra è in curva allo spazio-tempo quindi la geometria su cui si propagano le onde entro magnetiche non è piatta ma è curva e tiene conto anche di un'altra cosa che vi aggeremo molto meglio nella conferenza e cioè che visto che voi parlate la Terra con un satellite che si trova a 30.000 di distanza il tempo la dimensione temporale per voi è diversa dalla dimensione temporale che accusa il satellite cioè il tempo passa in modo diverso per voi rispetto al satellite bisogna fare questa correzione per riuscire ad avere una perché scorre in modo diverso in cui cominciamo a entrare un po' nel delirio mentale perché Albert Einstein che cosa dice di fondamentale la velocità della luce è una velocità incredibilmente elevata è 300.000 km al secondo ma è finita quindi vuol dire che anche la luce e anche l'informazione seppur viaggiando velocemente impiega del tempo a percorrere lo spazio quindi se io guardo un oggetto a 100 anni luce di distanza non lo sto vedendo come adesso nel mio presente ma lo sto vedendo come era 100 anni fa il presente vincolare è solo all'osservatore voi siete a qualche metodo di distanza da me io non sono nel vostro presente voi non siete nel mio presente frazione di millisecondo ma così se le esasperiamo per il cosmo questa cosa bisogna tenere conto quindi se io guardo un oggetto a una distanza di un miliardo di radici di distanza lo vedo come un miliardo di anni fa cioè direi temporanei di cui tenere conto quindi necessariamente se dico dove sto guardando sto dicendo anche quando lo sto guardando e quindi l'universo con Albert Einstein assume una forma completamente diversa una definizione completamente innovativa cioè il concetto di spazio e il concetto di tempo non sono assoluti ma sono intrinsecamente legati l'un con l'altro quindi l'universo non è una struttura tridimensionale ma è una struttura quadridimensionale composta da tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale tutti i sieri quindi se io impulgo l'universo e determino una deformazione geometrica dell'universo determino una deformazione geometrica anche a confronto della dimensione temporale quindi se io mi trovo distante più distante da un campo gravitazionale il tempo è più libero di fluire velocemente io abito 2000 metri di quota adesso ho provato una casa relativamente a voi io leggo nel futuro un po' più velocemente frazioni di millisecondo ma è così ok se andiamo sotto intensissimi campi gravitazionali come vedremo per un buco nero una strada di neutroni allora bisogna affettare il conto quindi l'universo è quadridimensionale si deforma evidentemente dall'oggetto che si trova localmente e una volta deformato è la deformazione che dice le cose come devono muoversi cioè se abbiamo un oggetto che si propaga in un piano glideo un piano a un certo punto incontra un avvallamento ovviamente o cambia traiettoria o cambia dentro questa buca che necessariamente deve seguire la geometria dell'universo quindi specialmente per i ragazzi del Dcio mi raccomando non esiste solo più esistono anche le geometrie publie e hanno delle leggi completamente diverse se voi disegnate un triangolo su un piano la somma degli angoli interni è 190 gradi va per il piano se voi disegnate un triangolo su un palloncino a boffio la somma degli angoli interni non è 190 gradi due rette localmente parallele non si incontrano solo sul piano sono la geometria chiusa con l'ergon sono la geometria abberta con l'ergon quindi bisogna capire bene come localmente si è deformato l'universo per riuscire a crearsi una metrica cioè un modo di misurare la distanza perché se tra me e il Signore è pianto io misuro da abbi io un conto ma se tra me e il Signore l'universo fa così ovviamente il concetto di distanza cambia poi un altro concetto di cui dobbiamo superfirmato e ci torniamo dopo è questo prendiamo atto che l'universo quadridimensionale la velocità della luce è finita se guardo lontano guardo l'inizio del tempo ok questo è già se qualcuno mi dovesse chiedere esiste la macchina del tempo è facilissimo guarda forward la volta celeste tutto quello che vedi non è in diretta è inizionato il tempo a seconda della distanza luce a cui si trova guardando se tu vuoi andare nel passato è un po' più complicato lo vediamo alla fine quando siete devastati così quasi sicuramente va bene quindi Newton e Einstein mettiamoli un attimo adesso facciamo una piccola digressione storica per vedere questi buchi neri da dove vengono fuori il concetto di stella nera o di cupo nero è una definizione del 1967 ma l'idea che potesse resistere oggetti un po' così stravaganti con quelle caratteristiche è già del 1783 perché John Mitchell già le ipotizza chiamandole stelle oscure che cosa fa? fa una cosa banalissima a cui nessuno aveva pensato prima prende l'equazione della velocità di fuga che avete visto prima la velocità uguale alla radice quadrata di 2 che è una costante G che è una costante m che è la massa r che è il raggio e che cosa fa? fa una banale formola inversa cioè dice supponiamo non calcoliamo la velocità di fuga supponiamo che la velocità di fuga sia la velocità della luce che massa o che dimensione deve avere l'oggetto per avere quella di una velocità di fuga ok? gli viene fuori che se esiste un oggetto che ha una densità paragonabile a quella del sole ma con un diametro 500 volte superiore questo oggetto avrebbe un campo gravitazionale così devastante che la velocità di fuga diventa la velocità della luce e le chiama stelle oscure in parallelo nel 96 sempre 1700 però anche la plassa arriva alla stessa conclusione utilizzando una densità superiore perché prende la densità della terra invece quella del sole però l'idea del concetto c'è possono esistere degli oggetti che hanno un campo gravitazionale così potente per cui la velocità di fuga è la velocità di luce bene qual è il problema chi viene buttata lì quest'idea nessuno va a indagare perché tanto sono oscure no quindi ipotizziamo che esistono tanto non possiamo studiare ma si vedono ma il concetto proprio fondamentale qual è? è e qui capite qual è perché mi arrabbio quando anzi facciamo una prova datemi una definizione di buco nero voi che andate al liceo dai lo sapete tutti oppure ditelo voi perfetto questa definizione cioè l'oggetto che ha un campo gravitazionale così potente che anche la luce riesce a sfuggire è quello che c'è scritto sui libri sui testi scolastici ma se neanche la luce riesce a sfuggire da un campo gravitazionale necessariamente vuol dire che la luce ha una massa quindi nei testi scolastici del 2018 c'è una definizione del 1783 perché loro ipotizzavano non si sapeva ancora loro ipotizzavano lo facevano tutti che la luce avesse massa fosse una serie di piccoli corpuscoli con una massa seppur piccola ma ce l'aveva se no come faceva aveva un'interazione gravitazionale l'interazione gravitazionale esiste solo e sempre in presenza di massa ok quindi se voi date un'interpretazione di questo tipo date un'interpretazione del 1783 quando si supponeva che la luce avesse massa che cosa succede però che nell'inizio del 1800 questi due scienziati questi due ricercatori Young e Fresnel dimostrano che la luce si comporta invece come un ombra non come una serie di piccoli corpuscoli che si inseguono con l'altro non hanno una natura corpuscolare la luce è una natura condulatoria e quindi nessuno prende più in considerazione la definizione né di Laplastro e né delle collega perché perché non erano valide perché si basavano sul fatto che la luce dovesse avere massa e invece loro dimostrano più un'onda beh nessuno parla più di stelle oscure la maggior ragione è perché arriva un certo Maxwell che tira fuori delle equazioni che regolano che oggi chiamiamo l'equazione di Maxwell che regolano proprio la propagazione delle onde elettromagnetiche all'epoca non si sapeva che la luce è un'onda elettromagnetica ed è proprio Maxwell che lo scopre mi raccomando sempre mi riferisco a voi quando farete l'equazione di Maxwell sono potentissime la cosa interessante è proprio questa lui risolve queste equazioni e cerca una velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche e quando risolve le situazioni trova un numero che è sempre incredibilmente vicino a quello della velocità della luce e quindi è il primo a dire ma non è che anche la luce è un'onda elettromagnetica e quindi è un insieme di campi elettrici e campi magnetici che oscillano che si propagano e così dimostra che anche la luce è un'onda elettromagnetica quindi a maggior ragione nessuno parla più di luce corpuscolare di natura corpuscolare nessuno parla più di stelle oscure o intorno agli oggetti interazioni gravitazionali con la luce stessa poi torna il mitico Alberto e cosa fa? nel 1905 scopre l'effetto fotoelettrico Albert Einstein prende il premio Nobel per questo scoperta non prende nessun premio per la relatività generale né la relatività distretta ma il premio Nobel lo prende per l'effetto fotoelettrico cioè cosa scopre? che in realtà la luce si può comportare sia da corpuscolo che da onda cioè a una natura attuale dipendentemente dal contesto si può comportare in un modo o nell'altro che cosa è l'effetto fotoelettrico velocemente? l'effetto fotoelettrico è l'effetto grazie al quale io ottengo l'immagine che avete visto all'inizio quella che avete visto di CTA 102 cioè l'occhio elettronico del telescopio è un blocchettino di silicio puro arrivano i fotoni provenienti dal cielo entrano nel telescopio vengono concentrati al fuoco dove c'è questo sensore colpiscono il sensore e scalzano un elettrone noi contiamo gli elettroni per risalire alla quantità di fotoni che sono arrivati dal cosmo ma se l'elettrone è scalzato vuol dire che il fotone quando lo colpisce ci cozza proprio contro cioè c'è un urto elastico e quindi in quel caso la luce si comporta in modo corpuscolare c'è proprio un urto tra il fotone e l'elettrone e c'è la forma sperimentale perché si sposta l'elettrone quindi può essere l'effetto fotolettrico si può comportarsi in un modo che nell'altro si pensava fosse un dolatorio Albert Einstein si trova un caso eccezionale in cui il luce si comporta da corpuscolo quindi dipendente in questo contesto può comportarsi in un modo o nell'altro bene quindi esaltazione totale e si inizia a parlare di buco neri o meglio di stelle oscure perché la definizione di buco nero avviene in realtà nel 1967 durante un congresso quando il famoso astrofisico Wheeler battezza durante questo congresso questi oggetti cioè si riprendono i calcoli fatti già nel passato e si ipotizza l'esistenza di oggetti molto densi che hanno una velocità di fuga incredibile tale da rendere completamente oscuri perché si ipotizza l'esistenza di questi oggetti perché poco prima sono state scoperte le stelle di neutroni le stelle di neutroni sono degli oggetti super compatti anche loro e sono quasi un buco nero cioè se voi prendete una stella le stelle come gli esseri umani nascono crescono e muoiono nascono all'interno delle nebulose sempre grazie alla gravità cioè la nebulosa collassa localmente da dove origano oggetti più densi che si chiamano protostelle se voi schiacciate la materia e la temperatura aumenta se la temperatura arriva a quei livelli tali da poter innescare i processi di pulsione tra un mondo leale se c'è una stella lei vive tranquillamente la sua esistenza per tot tempo quanto dipende dalla massa della stella a differenza del senso comune quello che può suggerire il senso comune le stelle più piccole vivono di più le stelle più grandi vivono di meno una stella piccola come il nostro sole o anche meno può vivere decine di miliardi di anni una stella invece di grande massa ha centinaia di milioni di anni il parametro di massa è anche il parametro che decide come che modo va a morire con la stella una stella di piccola massa muore in modo non invasivo cioè rilascia tutto l'implupo esterno nello spazio circostante dando origine a una nebulosa planetaria e il relito di morte stellare che è una nana bianca che è un belito di una stella che piano piano va raffreddandosi e spegnendosi se invece la stella era molto più massiva almeno 9-10 volte la massa del nostro sole la morte è di tipo catastrofico e allora mette un'esplosione di supernova e il relito di morte stellare è una stella dei neutroni è un oggetto molto compatto di dimensioni di circa 20-30 km di diametro ma con una densità che arriva ad essere anche un miliardo di volte la densità del pianeta Terra se la stella morente aveva una massa superiore a 10-12 volte la massa del nostro sole con un limite superiore che ancora ben non conosciamo il relito di morte stellare invece è una singola regola spazio temporale cioè l'unico reno quindi le stelle dei neutroni hanno state scoperte qualcuno dice se ci mettiamo con un pochino di più di densità otteniamo un oggetto da cui non può scappare neanche la luce e quindi vengono ipotizzati l'esistenza di nuovo l'idea del 1780 di ripresa del 1863 va pattenzata come buchi nero black hole per riuscire a capire che cos'è un buco nero prendiamo tutte le informazioni che abbiamo visto prima e prendiamo Albert Einstein perché Albert Einstein quando scrive la relatività generale entra fuori con l'equazione lì ma stiamo a indagare oggi l'equazione tensoriale quella è l'equazione di campo di Albert Einstein lì dentro c'è tutto quello che conosciamo dell'universo dentro quell'equazione è un'equazione può essere risolta una soluzione matematicamente accettabile di questa equazione è l'esistenza di buchi nero ok l'equazione viene pubblicata nel 1915 e poco dopo questo altro fisico Svanshild la risolve e fa la stessa cosa che era stata fatta nel 1783 cioè va a calcolare quali sono le dimensioni limite di un oggetto in termini di massa per cui la velocità di fuga diventa essere pari alla velocità della luce e scrive questa banalissima formula in cui il raggio di questo oggetto è uguale a 2 che era costante g che era costante per n che era massa dell'oggetto diviso la velocità della luce al quadrato che era costante quindi vedete che il raggio le dimensioni limite dell'oggetto che possa diventare un black hole dipendono solo unicamente dalla massa questo raggio limite oltre il quale la gravità diventa infinita viene chiamato ovviamente grazie allo scopritore raggio di Svanshild ok il raggio di Svanshild è il raggio della superficie di un corero se voi dipende solo dalla massa potete calcolare il raggio di Svanshild anche di voi stessi per un esempio il raggio di Svanshild del nostro sole è 3 km cioè se voi prendete tutto il sole così com'è che 109 volte il pianeta Terra è intermedio di diametro lo rinchiudete mantenendo inalternata la massa in una sfera di 3 km diventa un black hole il pianeta Terra così come la conoscete se lo schiacciate l'interno di una sferetta di 9 mm diventa un black hole ok bene in questo modo teoricamente viene calcolato qual è il raggio ora sforzo mentale incredibile l'universo è quadradimensionale quindi se voi viaggiate nell'universo e a un certo punto vi trovate davanti a un buco nero come pensate di vederlo? non è un buco è un buco sferico è un buco sferico perché l'universo non è non è che è un foglio dove c'è il buco è uno spazio quadradimensionale e quindi la struttura della superficie del buco nero è una sfera ok quindi qual è il raggio di una sfera non di un cerchio questo raggio determina una grazie a questo raggio si può calcolare una superficie che è appunto l'orizzonte degli eventi che è la superficie del black hole o meglio incominciamo a chiamarla singolarità spazio-temporale perché i buchi neri sono sempre chiamati black hole ma oggi preferiamo chiamarle singolarità spazio-temporale perché non c'è il buco e non sono neri come vedremo cioè voi pensate un oggetto molto denso sul nostro tappeto elastico la deformazione diventa incredibilmente elevata ma non è che si buca da nessuna parte ok prendete un lenzuolo metteteci sopra un ferro d'astiro e il lenzuolo di casa fa così ok immaginate di avere un ferro d'astiro ma un oggetto densissimo avete una curvatura pazzesca ma non è che c'è un buco da qualche parte ok è una curvatura infinita si dice locale dell'universo quindi qualsiasi cosa di angi in prossimità di questa curvatura è una geodetica l'universo proprio cambia forma ma lì deve necessariamente seguire questa curvatura ok e seguire quindi la traiettoria indicata dal precolo stesso dalla singularità stessa ma che cosa vuol dire l'orizzonte dei diventi allora per riuscire a spiegarla è necessario avere in mente un concetto di fisica che voi sicuramente avete studiato o studierete a breve e gli altri l'hanno studiato ma probabilmente si sono dimenticati che è l'effetto doppler siamo sul pezzo grande uno è con me cos'è l'effetto doppler allora velocemente facciamo un esempio per le grandi acupunte di suono voi siete sul bordo di una strada occhi chiusi capite se un oggetto si è lontano si è vicino a voi perché sentite eh no cosa vuol dire l'oggetto emette una frequenza costante perché voi sulla macchina sentite emette una frequenza costante però si sposta verso di voi quindi le onde sonore si schiacciano il suono diventa più acuto si allontanano le onde si accungono diventano più gravi e qui sentite ok perché insisto su questa cosa perché purtroppo è il libro di testo che classifate terza allora non siete ancora stati devastati dalla definizione delle fotodoplie quindi di salvo ma se voi prendete una classe di quinta dice scientifico superiore ok prossimo esame di maturità che ha fatto l'effetto doppler e gli chiedete che cos'è l'effetto doppler loro in coro rispondono ambulanza eh è sbagliato eh sì le spiego subito perché l'esempio viene sempre fatto con l'ambulanza allora l'effetto doppler dice il treno va bene ancora lo dice l'effetto doppler lo dice l'effetto doppler io sto fermo velocità più o meno a zero e c'è un oggetto che si muove di velocità costante emettendo un suono a frequenza costante azzol'ambulanza fa minonino è un suono costante è un suono modulato è ovvio che c'è l'effetto doppler ma è miscelato dentro alla modulazione di frequenza ok quindi si prende una frequenza costante ok e si vede che non ha un aumento del volume ma proprio dell'intensità del suono quindi se arrivate in quinta vi dicono mi risolvete questo problema prendete un'ambulanza e dite no con l'ambulanza risolvi tu e dite lei è la professione io lo faccio con una frequenza costante allora dobbiamo prendere questa cosa qua si può applicare lo stesso effetto anche alle onde elettromagnetiche allora immaginiamo di puntare il telescopio su un qualsiasi oggetto del nostro cosmo lui è un che mette la sua luce e noi la percepiamo con il nostro telescopio e luce bianca ok arriva all'oculare del telescopio se noi lì invece della camera ssd di cui vi ho parlato prima ci mettiamo uno spettroscopio possiamo fare lo spettro di quella luce cioè la scomposizione di tutte le componenti monopromantiche dell'oculare conteniamo l'arcobaleno di quell'oggetto se andate a guardare l'arcobaleno nel dettaglio vedete un occhio di linee nere dentro queste linee nere si chiamano righe di assorbimento e sono il codice a barre dell'oggetto che state studiando se ci sono o non ci sono e se ci sono andate a vedere dove si trovano qui dicono le caratteristiche chimico-fisiche e le dinamicità di quell'oggetto ok perché le dinamicità perché se l'oggetto si sta spostando o avvicinando come per il suono le righe di assorbimento si spostano blu shiftano cioè tendono a andare verso blu o redshiftano vanno verso il rosso se vanno verso il blu vuol dire che l'oggetto si sta avvicinando se vanno verso il rosso l'oggetto si sta allontanando andare verso il rosso vuol dire andare a lunghezze sono più grandi quindi si sta stirando l'onda come il suono che se ne va e l'onda acustica si stira ok bene questo effetto è in questa equazione è z uguale lasciate stare la cosa importante è che al denominatore di quell'equazione di quella forma c'è il raggio di sbarci si chiede rg allora abbiamo già visto che cos'è il raggio di sbarci ora immaginate che l'oggetto incomincia a collassare e il raggio dell'oggetto arriva al raggio di sbarci al suo raggio di sbarci quindi mettiamo al posto di r raggio di sbarci raggio di sbarci fratto raggio di sbarci fa 1 1-1 fa 0 1 fratto 0 fa infinito vuol dire il significato fisico dell'orizzonte degli eventi è quel luogo in cui il redshift è infinito vuol dire che l'onda non si è solamente un po' spampanata è infinito vuol dire che l'onda è diventata dritta ok la lunghezza d'onda è diventata infinita se la lunghezza d'onda è diventata infinita la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale ad un altro concetto fondamentale che è la frequenza se la lunghezza d'onda è grande la frequenza è piccola se la lunghezza d'onda è piccola la frequenza è grande per esempio i raggi hanno una frequenza enorme sono molto energetici la frequenza invece di dire che possono proporzionare lunghezza d'onda piccole le onde radio sono enormi non ci fanno niente anche se ci colpiscono perché la loro energia è piccolissima la frequenza è piccola qui invece abbiamo una lunghezza d'onda infinita la frequenza è inversamente proporzionale la frequenza diventa zero se la frequenza è strettamente correlata all'energia se la frequenza è zero l'energia è zero questa luce non ce la fa più non ha più energia ha una lunghezza d'onda stiratissima non ha più energia non può fuoriuscire da un orizzonte di venti per questo motivo l'interazione gravitazionale in quel senso è un'interazione gravitazionale sulla luce stessa ok è un redshift gravitazionale cioè la luce viene completamente stirata non ha più energia non può più fuoriuscire in quel senso non può uscire da un buco nero ok non perché necessariamente è una massa da cui è attratto è proprio stirata completamente questo è spero di aver dato un'idea di cosa succede prossimamente alla luce questa cosa succede al spazio e al tempo perché lì si è trovato tutto quindi il tempo stesso ha subito questa incredibile interazione gravitazionale quindi la cosa fuorissima è che sull'orizzonte degli eventi di un buco nero il tempo è fermo la gravità è così devastante che il tempo si ferma non è più in grado di scorrere neanche lui lontano da un campo gravitazionale il tempo è libero di fluire molto lontano di fluire più velocemente più ci avviciniamo a un intenso campo gravitazionale più il tempo rallenta e dove la gravità dell'infinita abbiamo un recito gravitazionale di questo genere il tempo si ferma quindi voi immaginate di arrivare con la vostra rastornale generazionale in prossimità di una singolarità spazotemporale fermata a distanza di sicurezza parte la sonda per farci un giro intorno dice uh che bello sta in giro un'oretta a distanza di sicurezza torna l'astornale generazionale ma non c'è più perché per voi è passata un'ora ma per l'astornale generazionale sono passati 250 milioni di anni ok perché la dimensione temporale accusa rallenta tantissimo voi non mi raccoggete per quel tempo fluisce tranquillamente infatti adesso vedremo qualche esempio ci avvicineremo allo risolto di eventi però ci avviciniamo con la matematica non deve ammazzare i soliti astronauti di distrutto di distrutto di distrutto muori a meno che una possibilità certa quindi andiamoci con la matematica tanto quando sei in prossimità di un black hole di una singolarità spazotemporale quello che avviene è un processo gravitazionale che gli americani hanno dedicato agli italiani che si chiama spaghettification vieni spaghettificato cioè la gravità è così potente e anche solamente per un essere umano i vostri piedi se siete in caduta verso un bel per questo non assicurate la spazotemporale i vostri piedi accusano una gravità di miliardi di volte superiore alla testa quindi venite allungati e non mettiamo nel dettaglio si muore quindi andiamoci con la matematica nascosta dentro l'orizzonte degli eventi c'è qualcosa che viene chiamata la singolarità allora primo assunto tutto quello che stiamo dicendo da adesso in poi specialmente è valido solo se assumiamo che la nostra fisica e la nostra matematica funzionino anche all'interno dell'orizzonte degli eventi ok l'orizzonte degli eventi è una finestra per un'altra realtà è la fine dello spazio del tempo del nostro universo quindi di là dobbiamo ipotizzare che funzioni anche di là la nostra fisica e la nostra matematica cosa c'è lì dentro una singolarità Albert Einstein appunto ci ha impazzito questa cosa quindi non stiamo tanto a dare una definizione però sappiate che singolarità cosa vuol dire vuol dire che se risolvete le equazioni è una cosa che dà molto fastidio ai fisici e ancora di più ai matematici quando risolvete un'equazione vi viene diviso zero c'è l'infinito è una singolarità ok è l'unico modo per è nascosto guarda caso dietro con un'orizzonte degli eventi di un buco nero nero materia oscura ok quando noi fisici non sappiamo di cosa stiamo parlando oscuro o nero sull'ora sostanza matematicamente esiste l'entità che esiste e la definizione vi lascio un po' perplessi perché è un luogo dove la densità è infinita c'è sempre quella divisa il zero per cui vi viene una roba e questa cosa fa impazzire la realtà tanto che dice no Sparshin ha sbagliato risolve le mie equazioni adesso vi dimostra che ha sbagliato questa cosa la fanno nel 1935 e dimostra una cosa ancora più incredibile che vi dico dopo ok Sparshin risolve l'equazione di campo per un buco nero statico sterico quindi proprio la cosa più semplice che può esistere statico sterico ok ma in natura avete mai visto un pianeta che sta fermo o una stella che sta ferma ruota ok è una semplificazione quella di Sparshin e bisogna aspettare il 1963 per farsi venire veramente il val di testa perché Kerr il fisico Kerr riesce a risolvere l'equazione di campo dell'Opertheister e trova una soluzione molto più prossima della realtà per un buco nero rotante se un buco nero ruota succede matematicamente sto parlando sempre del punto di vista matematico succedono delle cose bellissime prima di tutto lo spazio-tempo non è solo incurvato voi pensate a una gravità pazzesca una curvatura incredibile ma chi più ruota quindi lo spazio-tempo viene arrotolato arricciolato si chiama l'effetto Ernest-Tierling e un cavatappi quindi c'è un vortice di spazio-tempo e in più l'equazione viene fuori che la singolarità non è appunto una sferina piccolissima a densità infinita ma è un anello ok ruotando si forma una singolarità d'anello e per definizione se è un anello ci si può passare attraverso e ora qui il fisico teorico il ciclo dice qua da lì a poco avremo una prova sperimentale che i buchi neri esistono veramente grazie a quegli studi di Stephen Hawking e tanti altri astroni che hanno passato notti e notti e grazie al fatto che è nata l'astronomia X e gamma cioè l'astronomia ad alte energie sono stati scoperti poi i buchi neri non sono più un'ipotesi puramente matematica teorica perché ci sono voluti anni e quindi ci sono dovuti sviluppare le sonde alla GX alla G gamma i buchi neri non sono osservabili nel visibile non potete osservare la causa non potete vedere l'orizzonte degli eventi ma potete vedere il disastro che fa in quella zona di universo una singola traspasso temporale quindi applicate i principi di causa e l'effetto studiate gli effetti e risalite le cause vedete la causa prima forse fra due o tre anni riusciremo a avere un'immagine incredibile del buco nero supermassivo della nostra galassia però ad oggi con i telescopi più potenti che abbiamo si riesce a vedere proprio le stelle prossime al centro della nostra galassia che orbitano sempre più velocemente in torna qualcosa di nero che non si vede ok addirittura è stato fatto una è stata ottenuta una parola sperimentale un mese scorso della stella X2 non so S2 non so l'avete visto lo filmato si vede questa stella che passa molto vicino all'orizzonte degli eventi però ancora a distanza di sicurezza la stella che sarà blu diventa rossa e poi torna ad essere blu cioè c'è un effetto di redshift gravitazionale sulla luce emessa dalla stella passa così vicino all'orizzonte degli eventi che si arrossa perché la luce che tende ad uscire da quella stella viene stirata gravitazionalmente nella presenza dell'orizzonte degli eventi quindi le cose adesso ce la abbiamo se si forma un anello potete passarci attraverso è vero e dove finite lo vediamo dopo però dovete azzeccare il momento temporale giusto e la traiettoria giusta per passare proprio in mezzo perché se per caso sbagliate e finite su l'anello l'anello è un loop temporale chiuso il tempo è fermo è in più un loop temporale chiuso quindi voi arrivate sull'anello vedete wow che bello sono sulla singolarità fate tutto il giro arrivate state per arrivare dove siete partiti e vedete voi stessi che entrano e dicono wow che bello tornate qua vedete voi stessi che entrano e dicono wow che bello il tempo è fermo è più chiuso su se stesso ok per riuscire però ad arrivare fino lì deve accadere qualcosa allora i buchi neri statici di morte stellare i buchi neri anche rotanti di morte stellare sono molto piccoli hanno una densità incredibile possono essere grossi come questa stanza quindi necessariamente vengono distrutti però esiste una categoria dei buchi neri un po' più particolare che adesso dopo questo video andiamo a vedere allora questo video ti fa vedere il nostro sole che è fondamentale il modello la solità spostiturale deve essere chiusa all'interno più raggiunto 3 km ok quindi vediamo chi mi dovrò filmare qualcosa che può essere paragonabile adesso che è un'operazione che è un'operazione che è un'operazione di un'operazione che è un'operazione vabbè ma una grande città è una città una campione della terra non potete chiudere la baterica non potete chiudere non potete chiudere non potete chiudere da qua se parete un gruppo nero con una per esempio un XDE gen 16500 5500 poi vi dico perché si fa quella così è un gruppo piccolo e grosso di via ma città da una data però all'interno ha una massa per la monomia e quattro masse sota andiamo a prendere una singolarità super contemporanea un po' più grande, andiamo a prendere il centro del livello 682, la singolarità super contemporanea ha le divisioni di Marte e contiene mille soli, cioè in quantità di massa, potrebbe essere mille di massa del nostro sol, mille di grossi soli, a questo siamo a un po' di media grandezza, andiamo a un po' di super massimo, per il che studio io, ci devo spostare lontano dopo l'istituto, anche perché erano tutti questi confermati, sicuramente, andremo a prendere, per esempio, questo posto qua, che è l'area, e poi vedete che c'è al centro del livello 682, il sistema solare, c'è la dimensione del livello 68220, sono una ventina dei nostri sistemi solari, e contiene, va facendo un po' bene 20 miliardi di massa solare, ok? Il più grande, come lo scomassi ce l'ho già conosciuto, ha una massa di 50 miliardi di massa solare, il range è da 30 milioni e 50 miliardi di massa solare, 50 miliardi di massa solare, ma se non esistesse bucchi neri sulle massivi all'interno del centro delle nostre galassie, non potrebbe esistere, perché la nostra galassia c'era 4 miliardi di massa solare, ed è il bucchi neri sulle massivi che determina la dinamica della galassia, quindi la galassia muovendo si fa sì che i gas cominciano a scontrarsi, e di conseguenza cominciano a formarsi nuove stelle, dagli sistemi solari, quindi sono loro che governano la dinamica della galassia stessa. Bene, quindi abbiamo bucchi neri di morte stellare, ma abbiamo anche questi bucchi neri supermassicci, io come al solito scolo sempre, perché è già passata un'ora, io vado, se non ce la fate più mi dite, muovono lì e... ma ci siamo quasi. Un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Bucco nero è supermassiccio, è un nucleo galatico attivo, così sono chiamate, la categoria è quello, nucleo galatico attivo. Ad oggi sappiamo che all'interno dei centri di tutte le galassie c'è un bucco nero, di queste categorie qua, di masse enormi, però ce ne sono alcuni che sono attivi, altri no. Cioè se voi guardate le galassie entro più o meno un miliardo di anni luce, sono più o meno come la nostra galassia, tranne qualche, alla eccezione. Tra 1 e 9 miliardi di anni luce di distanza, invece più, andate qui a guardare molto nel passato dell'universo, trovate invece quelli attivi. Cosa vuol dire attivi? Vuol dire che perpendicolarmente dal disco della galassia fuoriescono dei giganteschi getti di materia e di energia. Quindi questi buchi neri supermassicci sputano fuori una valanda di Roma, in più sono anche rotanti. Una delle tante classificazioni sono per esempio in Quasar. Sono stati studiati per parecchio tempo. Oggi sono per esempio in Quasar, cioè se ci chiamo a un'orizzonte degli eletti, immaginiamo di avvicinarci, di incontrare questo tipo sterico, la polvere e dei gas del mondo, non entra mai nel tubo nero. Solo una volta dentro il volume. Ok. E... Invece a questo tipo sterico si forma un disco di accrescimento, cioè la materia incomincia a cadere verso l'altro spazio temporale, si forma quindi questo disco di accrescimento enorme, la materia vanticosamente ruota, per la viscosità aumenta tantissimo la temperatura del galassia, quindi particelle cariche, sono particelle veri che in movimento investono nel gatto magnetico, e si forma una gigantesca gabbia magnetica intorno all'orizzonte degli eletti, la materia viene quindi cade, se al di là della gabbia magnetica viene raccolta dalla gabbia magnetica e sputa da fuori sotto forma di questi giganteschi getti di materia di energia. Arrivano a centinaia di migliaia di animi di distanza questi getti, sono delle emissioni potentissime. L'unico motore che conosciamo che può fare una cosa del genere è il tocco nero, lo spermassiccio, quindi con massi di polvere che avete visto, e in rapida rotazione. Tutto ciò è invece che entro il limite di sicurezza cade inesorabilmente verso la singolarità. Più o meno per un bucurero si mangia il 40% della massa che gli gira attorno, perché deve essere molto vicino, quanto il limite di sicurezza per un grecollo è tre raggi di svarsid, cioè a seconda dell'oggetto, quindi che ha il suo raggio di svarsid, riprendiamo il sole, tre chilometri, se voi vi trovate a tre, sei, nove chilometri di distanza, non siete risucchiati. Cioè se il nostro sole diventa un buco nero, potete andare a nove chilometri di distanza e guardare e non essere risucchiati verso la singolarità. Quella è la distanza di sicurezza. Entro con le distanze inesorabilmente cadete verso la singolarità. Se state lì sul limite, girate per l'eternità attorno alla singolarità, fuori vi salvate, però tenete sempre conto della dimensione temporale. Cioè di là l'eternità schizzaria che è una velocità incredibile. La cosa interessante, tra le tante, per i buchi neri supermassicci, è che non sono incredibilmente densi, hanno una densità che è anche inferiore a quella dell'acqua, però riescono comunque, essendo anche incredibilmente massivi, a deformare l'universo così tanto da creare una singolarità spasso-temporale. Se hanno una densità che è anche inferiore a quella dell'acqua, vuol dire che se voi vi tuffate dentro l'onorizzonte degli eventi di un buchi nero supermassiccio, la forza che percepite addosso a voi è paragonabile a quella che percepireste partendo con un aereo per un volo intercontinentale. Quindi non venite distrutti subito come per un buchi nero di morte stellare. Sempre però a tenere conto della dimensione temporale, voi siete a via a notare dentro l'orizzonte degli eventi del buchi nero supermassiccio, se guardate dentro il buchi nero vedete il passato dell'universo che è stato catturato, tutta la storia del passato dell'universo, se guardate sopra di voi vedete l'eternità schizzarvi fino a un attimo perché voi siete congelati in una terra presente. Allora, questi oggetti sono stati studiati per tanti anni, si pensava che fossero oggetti diversi perché le missioni erano un po' diverse una dall'altra. In realtà oggi riteniamo che l'oggetto sia sempre lo stesso, che è solo un gioco di prospettiva. Quindi voi avete quel SMBH e supermassive black hole, come dicono i Muse. Quindi avete la singolarità spazio-temporale, poi avete il disco da crescimento, poi avete un tono di polveri e poi in parte la struttura galattica. Ci sono questi oggetti che escono perpendicolarmente dalla struttura galattica, dipendentemente dall'angolo di vista, da come li osservate la Terra, avete la classificazione dei vari compiegati oggettivi. Perché ovviamente in un universo gli oggetti sono messi tutti come il panno, c'è sopra e sotto. Quindi, per capirci, se il getto rispara in faccia, prospetticamente vi arrivi in faccia, è un plaza. Se ha un angolo, invece, rispetto alla direzione di vista maggiore di zero gradito, zero è la direzione di polveri attivo Terra, avete un quasar, chiamano così, se no avete anche altre classificazioni. L'oggetto è sempre lo stesso, è solo un gioco di prospettiva, dipendentemente dalla linea di vista, Terra, oggetto. Perfetto. Questa era, fino a 2016, la migliore interpretazione artistica, parlata sulla di scientifici reali, di Buconello Supermassiccio. Quindi abbiamo la singolarità, abbiamo il disco da crescimento, abbiamo il gas di polvere, abbiamo il fascio incredibilmente collimato che fuoriesce dal Buconello Supermassiccio. Questo non ci interessa. Questo neanche. Questo è per le scuole, questo è il slider. Ora, arriviamo a CTA 102. Questo è un grafico fotometrico come quello che faccio io. Allora, praticamente voi avete la magnitudine, che è un modo di misurare la luminosità dell'oggetto, più aumenta la magnitudine più l'oggetto è meno luminoso. Cioè l'oggetto di ventesima magnitudine è molto meno luminoso di un oggetto di decima magnitudine, che è la scala del contrario rispetto alla luminosità standard, e sotto vedo il tempo che passa. Quindi il tempo passa, io guardo l'oggetto con il telescopio, faccio un'immagine, calcolo la luminosità, la luminosità, metto un puntino. E così faccio un'immagine quantitativa di quanta luce mi arriva da questo oggetto nel tempo. Lui era già stato studiato per parecchio tempo e nel 2012 aveva avuto un picco incredibilmente elevato di luminosità. Questi oggetti di tanto in tanto hanno un picco di luminosità pazzesco, aumentano, non sappiamo bene perché, la loro luminosità per poi riscendere. È una scala logaritmica, va bene, non entriamo nel dettaglio, ma tenete conto che quel piccolino del 2012 vuol dire che l'oggetto CTR-102 era diventato circa 12-13 volte più luminoso del normale. 12-13 volte più o meno del normale era entrato nella storia. Mai si era vista un incremento di luminosità del genere. Che cosa succede? Allora, siamo alla notte del 30 novembre del 2016, ma ricordo benissimo che sono le 11 e 34 minuti dove mi arriva l'allerta sul cellulare da il gruppo internazionale, questi sono telegrammi mondiali, astronomici. Li mandiamo quando riteniamo che stia succedendo qualcosa per avvisare la comunità scientifica. Mi arriva questa informazione e mi dice guarda che abbiamo visto che il CTR-102 sta facendo qualcosa di incredibile. Lo vediamo con una luminosità molto elevata di un certo valore. Allora, io sono lì che scalpito a casa, sono 11 e mezza, non posso andare all'osservatorio perché ho un bambino di due mesi in braccio. Dico, lo posso buttare via mia moglie e andrò via, no? Allora, se lo dico, lo mio ovviamente non voleva dormire, grazie a lui leggo il messaggio perché magari l'ho dragato a letto, lo vediamo. Chiamo la mia collega che era in osservatorio, gli dico, fai un'immagine, ti mando al poro le coordinate, lui mi dice, guarda che sta tramontando, lo so, quindi facciamo in fretta, lui posiziona il telescopio, fa un'immagine, un punto, gioco dopo scendo all'osservatorio, faccio la gine matematica su quell'unico punto che avevo e mi viene coerente con il valore che mi davano questo signore che è l'altro che fa parte del nostro gruppo che se non sbaglio ha quella sera in Svezia. Allora, è coerente, sta aumentando l'università, bene, e quindi continuo ad osservarlo, continuo ad osservarlo, continuo ad osservarlo finché l'uno dicembre, sostanzialmente la sera dopo, questa è la curva che ottengo, il punto che vedete in basso a sinistra è il punto che aveva lo stesso valore del mio collegato. La sera dopo lo vedo lì, è una scala logaritmica quella, quindi l'incremento di luminosità è impressionante, vi faccio i calcoli 3.000 volte perché devo mandare un'allerta, è un'allerta mondiale se sbaglio fra la figura di un'allerta mondiale. Allora, mando e dico guardate ragazzi che è molto più eccezionale di quello che era ieri, secondo me vale la pena osservarlo. Io continuo ad osservare l'oggetto e che cosa succede? Torna giù, non fa niente per un po' di giorni e il 15 dicembre va a finire là. Finire là vuol dire che l'oggetto è diventato 12 volte la storia, ok? Lì vuol dire essere 486 volte più luminose del suo stato standard. 486 l'ho detto sbagliato, cominciano a rifare i calcoli telescopi e tutto quanto e in realtà era così tanto che spulciando tutta la letteratura possibile i grandi capi del Consorzio Internazionale hanno voluto dedicarmi questo titolo cioè il CTA 102 la più grande emissione luminosa mai vista nella storia dello studio di Glasa che è questa categoria di quasi mai vista una cosa così. E quindi tutto il Consorzio si mette ad osservare e otteniamo questa curva. Vedete che lui tranquillissimo in basso a sinistra è tranquillo e comincia a salire poi c'è quel picco il primo picco gigante verde nella mia osservazione poi ci mettiamo tutti insieme e ovviamente otteniamo il profilo diventa ancora più luminoso da capo imperatore se non sbaglio non l'ho visto di dare la massima luminosità. E poi tornato giù è ancora gelatente è tornato come prima. Che cosa è successo? non è possibile che nel giro neanche qualche giorno lui è diventato quasi 500 volte più luminoso del suo stato standard l'evento è straordinario. Quindi passiamo i dati teorici i teorici devono elaborare un modello per riuscire a giustificare che cosa abbiamo visto e questo ci ha portato alla pubblicazione su Nature quella è la curva che poi finita sulla rivista e sappiate che il CT-102 in quale notte era osservabile da tutti questa è una fotografia fatta con un telescopio da 8 centimetri non 81 centimetri quello che ho usato io 8 centimetri ok? Era diventato così luminoso che io nel telescopio della Valle d'Osta quando facevo l'immagine di solito dovevo fare un'esposizione di almeno 4 minuti per vedere quel puntinino lì quella sera ho fatto un'immagine di 4 minuti e ho detto cosa succede? tutto saturato scendo, scendo, scendo scendo e alla fine l'immagine ottenevo 9 secondi di posa perché era quasi 500 volte e più luminoso ok? tanto che si è visto appunto anche con strumenti amatoriali ed è andato per chi sa dalla 17esima magnitudine alla 15esima ok? questa è la pubblicazione che abbiamo fatto su Nature quindi che è stata accettata dopo un anno finalmente siamo finiti su questa rivista per questa scoperta questa scoperta è una prova giustificata e allora che cosa è successo? la giustificazione che abbiamo dato è la seguente fino a l'anno scorso si supponeva che gli centi che fuoriuscivano da questi nuovi variati centivi come vi ho fatto vedere fossero incredibilmente collimati e in realtà abbiamo dimostrato che non sono collimati a meno per CT-A102 Skoda si muove in questo modo qua ok? muoversi in questo modo qua è solo una stupidanza ma si stema con una valanga di problematiche che avevamo riscontrato nello studio dei buchi neri supermassici perché le diverse emissioni alle diverse lunghezze d'onda quindi alle diverse frequenze non avvengono tutte nello stesso momento nel getto vedete che parte l'ottico poi l'infrarosso poi il millimetrico poi il radio quindi anche avevamo detto che questi getti erano solo un gioco di prospettiva per l'osservazione del getto addirittura il getto è solo una di prospettiva perché se sta scodando davanti a te tu puoi vedere più la coppa come l'effetto faro quando arrivate in prossimità del porto no? potete vedere un po' di luce o vedete tantissima ok? è la stessa cosa quindi cosa vuol dire? che CT-A102 si trova a 8,1 miliardi delle luci di distanza quel puntilino che ho visto da monitor era un evento che era successo 8 miliardi di anni fa quindi vuol dire che questo oggetto a 8 miliardi di anni fa ha scodato e ha lanciato nello spazio questo segnale su quella di vista 3 miliardi di anni dopo è cominciato a formarsi il sistema solare 5 miliardi di anni dopo ancora ce l'ho io al telescopio che è uguale ok? quindi come riusciamo a giustificarlo? questo qua di nuovo è un effetto sta scodando perché scoda? allora abbiamo dato più possibilità abbiamo un'instabilità magnetoedrodinamica del getto cosa vuol dire? che il getto stesso non è completamente ovviamente omogeneo e quindi probabilmente oscilla un po' ma non ci piace più di tanto il disco di accrescimento può essere warpato si dice cioè da una parte può essere più denso che da un'altra quindi se da una parte più denso il disco di accrescimento mentre gira fa muovere tutto il sistema che riscoda ma l'ipotesi che ci piace di più almeno sicuramente ma anche a tutti gli altri è che CT-A102 non sia un buco nero supermassiccio ma sia un sistema binario di bucchi neri supermassicci lui ha una massa di un miliardo di masse solari abbiamo ipotizzato al fianco un oggetto della montagna leggermente inferiore se voi avete due oggetti il centro geometrico del sistema non coincide più con il centro il centro di massa perdono del sistema non coincide più con il centro geometrico dell'oggetto è come stelle e sole se voi guardate un sole solo gira così un sole con un pianeta seppur piccolo fa così è come il lanciatore del martello il martello pesa molto meno del lanciatore ma il lanciatore è uscilla e quindi se voi vi mettete di fianco con un compagno il sistema CT-102 oscilla così tanto da poter giustificare l'effetto disco da letto bene adesso ci rilassiamo grazie mille la cosa bella è che lavorano a questa parte chi fa le interpretazioni artistiche fa il getto così e non allora adesso ci divertiamo un po' e leggeremo la cosa insomma allora abbiamo visto che se invece avviciniamo ho parlato di tempo no? la dimensione è diversa ci avviciniamo a possibilità di un risultato degli eventi si ferma addirittura solo le risultate degli eventi stesse ma cos'è il tempo? chi ha il coraggio di darmi la definizione di tempo io non ce l'ho infatti mi affido al tempo cosmologico cioè quello che segue l'aumento dell'entropia del caos dell'universo noi abbiamo si possiamo che sappiamo questo è il tempo ma se lo tieni non lo sa più certo infatti esatto cioè sostanzialmente quello che possiamo dire è che noi percepiamo una direzione psicologica no? adesso in sera poi per la notte ok ci serve come dimensione perché oggi mi è andato a dividere qui ma se mi dicevo a che ora io facevo ok ci serve anche come coordinato proprio da che parte va? si dice che va beh adesso vuol dire definiamo il futuro ma il tempo passa in modo diverso a seconda del campo realizzazionale quindi parla del passato presente e futuro diventa il pomo c'è il futuro non è ancora avvenuto il passato per definizione non esiste più il presente sostanzialmente non esiste perché diventa già qualcos'altro quindi qualcuno è ipotizzato che il tempo non esiste neanche ma la domanda che si è sempre posti che fa anche abbastanza diventa armati è se si può viaggiare nel tempo allora è possibile viaggiare nel futuro? assolutamente sì l'abbiamo appena dimostrato basta avvicinarsi ad un intenso campo gravitazionale viaggi nel futuro perché quando torno indietro di là il tempo è schissato via no? questo è anche stato misurato sperimentalmente ci hanno messo due orologi atomici uno sulla terra e uno su un lavoro intercontinentale l'orologio importante di quello suo era andato di avanti ok? è il discorso di prima dei GPS e il viaggio nel passato invece allora qua diventa un po' un macello nel senso che il problema non è tanto di fisica matematica ma è un problema di logica cioè se provate a pensare di fare un viaggio nel passato incappate necessariamente in quello che si chiama un paradosso per esempio come si chiama? Miranda Miranda dice adesso torno indietro nel tempo a trovare me stessa è già paradossale perché? sono giochi mentali eh? quindi si cioè magari ci rimanete perplessi poi ci pensate stasera perché non può dire una cosa del genere? non tanto che è qua se dovrebbe già essere consapevole di averlo fatto perché ti è successo? perché è successo che non lo sa quindi capite che anche solamente per una cosa così banale ci sono dei paradossi che ti fanno diventare un po' matto ma ci entrano con la fisica ci sono delle equazioni del campo delle equazioni delle soluzioni delle equazioni di campo di Albert Einstein che vi danno la possibilità di ottenere delle scorciatoie nello spazio-tempo e quello che vi dicevo prima Albert Einstein si arrabbia per la soluzione di Svarschild nel 1935 chiama suo amico Rosen e dice adesso ci mettiamo a tavolino e dimostriamo che Svarschild aveva sbagliato perché sta cosa della singolarità a me non mi va giù cercano di dimostrare che Svarschild aveva sbagliato dimostrano l'esistenza matematica dei punti di Einstein-Rosen cioè la possibilità di passare dal nostro universo a universi paralleli attraverso un curicolo spazio-temporale in cui una singolarità in quel caso è ad arendo vi ricorda qualcosa con la roba lì? o il discorso che ho fatto? grandissimo ma non è bello un po' prima in 200 anni prima l'avete detto tutti da piccolo piccoli Alice nel Paese delle Meraviglie Alice nel Paese delle Meraviglie cosa fa? entra in la tarea del bel coniglio finisce attraverso un punicolo e arriva sostanzialmente in un universo parallelo in cui le cose sono fuorissime succedono alle robe francesche ok? la cosa interessante è che questo Alice nel Paese delle Meraviglie è stato scritto da Dobson con un'opera pseudonimo Lewis Carroll si fa chiamare e scrive però le altre avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie nel 1865 la teoria dell'attività generale viene pubblicata nel 1915 i wormhole vengono matematicamente dimostrati nel 1935 lui nel 1865 scrive questa cosa scrive anche anche un matematico scrive anche altri racconti in cui gioca col tempo le distorsioni temporali qualcuno ha pensato fosse un crononauta che sapeva che era andato segnali dal futuro o dal passato prova era Carlo qualcuno ha detto il crononauta il crononauta chi è? quello che viaggia nel tempo lo sapete dell'esperimento di Hawking anche lui era un impasato di viaggio nel tempo quindi ha dimostrato sperimentalmente che i crononauti non esistono ha fatto una festa in cui ha invitato tutti i crononauti ma gli inviti la festa finita alla festa non si è presentato nessuno c'è una mitica foto di lui con i palloncini in cui si è presentato e questo sarà ma l'ha doppato e non si è presentato nessuno ho fatto la festa ma gli inviti lo spedito dopo quindi se la cronauta lo è presentato è bellissimo non si è presentato nessuno comunque mi scrive questa cosa è interessante perché quindi vedete che giocando con la topologia cioè con la geometria con la matematica si possono ottenere cose incredibili l'esistenza appunto anche di punti desti e arrose poi ci sono i wormhole proprio puri che invece sono un'altra cosa sono matematicamente accettabili e teorizzati più che altro dalla meccanica quantistica da Kipthorn è uno dei più grandi conoscitori di wormhole Kipthorn è la persona il fisico il più grande conoscitore dell'attività generale vivente che ha aiutato per il film interstellar cioè il fisico che è stato e wormhole invece sono delle scorciatoie nel nostro universo non andate a finire un universo parallelo necessariamente come un ponte di essere rosa ma passate da un luogo all'altro molto velocemente quindi siamo allo spazio che nel tempo nel nostro universo non hanno singolarità e non hanno l'orizzonte degli eventi quindi potrebbero essere attraversati il problema di un ponte di Eisner-Rose matematicamente parlando è che è molto instabile rimane aperto la connessione tra il nostro universo e l'universo parallelo parlo sempre dal punto di vista matematico pochissimo tanto che neanche la luce riesce a passare quindi bisognerebbe prima di tutto stabilizzare il ponte di Eisner-Rose e poi passare passare dove sfociate e da qui viene fuori l'idea che possa resistere i buchi bianchi ok avete un orizzonte degli eventi un buco nero avete un anti-orizzonte un buco bianco dall'altra parte l'anti-orizzonte per definità sputa fuori però ma sempre matematicamente parlando è instabile anche lui e tenga diventare un orizzonte degli eventi quindi una sostanza dei metri trappolati lì dentro ok e sembrano tutta roba della fantascienza ma i buchi bianchi sono qualcuno li cerca sono tutti cercati quando hanno cominciato fotometricamente a vedere le emissioni dei quasar negli anni 70 si pensava che finalmente di aver trovato i buchi bianchi cioè delle emissioni incredibili di materia che viene fuori da qualcosa qualcuno avrebbe ipotizzato che fossero buchi bianchi cioè perché se c'è un buco nero dalla nostra parte e la materia entra dentro i buchi fanno un macello perché si mangiano tutto quindi vieno al principio fondamentale uno dei principi fondamentali della fisica la conservazione della massa e dell'energia non ti puoi mangiare tutto e non dare niente quindi o ti mangi tutto in scale cosmologici poi mi ridai tutto oppure se ti mangi tutto deve andare da qualche altra parte quindi era stata ipotizzata l'idea che tutta la materia dovesse sfociata da qualche altra parte però lì è a catena riparte perché allora il principio di conservazione cade tra gli universi paralleli non è che tutto da un universo quando è nell'altro per restare in equilibrio la cosa anche tra gli universi paralleli deve sfruttare fuori qualcosa di qua e quindi c'è chi cerca chi cercava chi cerca i buchini bianchi e appunto per quello che negli anni 70 si pensava fossero in quasi sapete cosa è il paradossi del nonno? bellissimo voi andate indietro nel tempo e ammazzate vostro nonno paradosso ok? perché se voi ammazzate vostro nonno voi non potete esistere se non esistete che ci fate di ammazzare vostro nonno? ok? in realtà l'interpretazione che do io è un'altra il nome è un altro è il paradosso della nonna materna perché se voi tornate indietro nel tempo e uccidete vostro nonno voi rimanete lì capito? invece con la nonna materna andate giù sicuro sono il nonno comunque questa impossibilità di andare logica nel passato qui si basa per esempio il paradosso del nonno lo vediamo in tantissimi film come diceva il signore il ritorno al futuro ce n'è qualcun altro molto interessante che è per esempio l'esercito delle dodici scimmie uno su Willis visto tutti lei predestination non ha visto nessuno questo vero? è bellissimo è uno visto? è uno dei più belli in assoluto grande è uno dei più belli in assoluto andate a vedere e guardatevelo c'è anche un delirio biologico di mezzo ma lasciate stare vizzi ci ha diventato temati andate poi su Lega Nerd e cercate la spiegazione per Interstellar scaricatevi la timeline prima di guardare il film se no non ci capite niente mi raccomando in quello predestination la cosa interessante è non lo spoiler però se ci pensate bene andate indietro nel tempo non è che io indietro nel tempo trovo me stesso perché non siamo in due siamo in tre e quel film è l'unico che effettivamente ha lo stesso personaggio che si triplica fa anche qualcosa di più perché vabbè c'è di mezzo la biologia sapete da dove è tratto quel film? da un romanzo di Urania che si intitola Tutti voi zombie che infatti è la frase che dice a un certo punto Urania è la collana di fantascienza ma l'idea ma concludiamo così può essere qualche domanda è la seguente immaginate anche di tornare indietro nel tempo lo potete cambiare in futuro? no c'è successo e quindi se ci pensate diventa non tanto un problema fisico ma un problema dell'altro genere perché sembra che se così fosse non esiste libero arbitrio siamo predestinati a un futuro e questa parola è sconvolgente e un film che tratta benissimo questa faccenda sembra assurdo perché c'è di me uno sfarzenegger non è così è Terminator quello l'avete visto? Terminator posso spoilerarlo perché tanto non è allora siamo fate conto i nostri giorni però esiste un futuro in cui nel futuro i robot le macchine hanno conquistato il pianeta Terra ci sono un piccolo manipolo di terrestri che riesce ha trovato il modo di distruggere i robot allora i robot quello da fanno è grazie all'ingegno di un essere umano i robot mandano nel passato un robot che poi è Schwarzenegger che deve uccidere la mamma la donna che avrà come figlio quella persona che nel futuro distruggere i robot gli esseri umani usano un portale temporale e mandano indietro un essere umano per riuscire a difendere la donna questi combattono e fanno di tutti i colori e alla fine il robot viene distrutto e guarda caso l'essere umano che è stato mandato indietro nel tempo si innamora di questa donna ha un figlio e questo figlio nel futuro sarà quello che distruggere i robot non poteva andare in altro modo perché nel futuro lui esiste quindi sembra un figlio stupidissimo perfetto grazie a tutti grazie a tutti non c'è nessun problema non c'è nessun problema non vi affendo se volete guardare qualcosa di interessante abbiamo allestito il banchetto di Getty to the Sky ma anche perché secondo me la ricerca non paga quello è un progetto di autoprodotti autofinanziato quindi se volete partecipare al progetto Getty to the Sky c'è qualsiasi quadra un euro in su per partecipare se nell'universo non esiste non esiste un sopra un sotto come mai che la massa deforma l'universo verso il basso c'è ragione c'è ragione c'è sì per esempio verso il centro di gravità sulla terra nel solo così allora mi risponde alla sua domanda per rispondere a tante altre quello che sta facendo lei è un esempio tridimensionale è lì che sbaglio infatti quando si parla di diverso è quadridimensionale quindi sopra e sotto non c'è centro non c'è bisogna fare uno sforzo mentale superiore no non c'è infatti il centro e che formale è diverso secondo voi buttate la lì una sfera ok dicono tutti così e fa boom si espande una geometriana comunque è sbagliato è 20 anni che faccio una conferenza che si intitola origine evoluzionale dell'universo perché è quella di un'interpretazione tridimensionale ma è banale dimostrare che non è così dimostro questa così dimostriamo tutte se fosse una sfera l'universo si espande a un certo punto nel tempo a un certo punto spucchiamo noi la sua sfera se volessimo vedere com'era nel passato cosa dobbiamo fare? dobbiamo generare i nostri telescopi puntati verso il centro della sfera che arriva da lì la storia dell'universo di questo futuro invece noi da qualsiasi parte guardiamo guardiamo indietro nel tempo quindi non può essere una sfera perché non c'è un luogo in cui si guardiamo verso il futuro anzi fa ancora più il mal di testa noi siamo in una struttura quadridimensionale in espansione dinamicamente si espande ma l'origine ci circonda e se tu guardi indietro nel tempo qui indietro e hai l'origine quindi l'origine ci circonda ma ci espandiamo in una struttura forissimo se ti fai un esempio tridimensionale come sopra e sotto non è così quindi si possono fare sicuramente vanno fatte queste conferenze di attaglio di cognitivo ma a un certo punto esistono dei bellissimi libri questi sono due se volete portarli se volete poi sfogliarli sono assolutamente questo è leggibile questo è un po' tutti mi vanno fuori di testa però a un certo punto ci sono la matematica la matematica è che è un linguaggio anche quello per riuscire ad apprezzare lo spazio quadridimensionale vi faccio questo esempio qua allora immaginate che esista un universo bidimensionale il piano fideo ok? il piano sopra ci sono cosa ci disegniamo? le figure geometriche il triangolo quadrato G e G date vita a questo universo cioè lo volete da fuori e vedete il quadrato si sveglia con la spesa ok? a un certo punto è ancora peggio perché a un certo punto il quadrato torna a casa e va a dormire e voi per fargli uno scherzo senza svegliarlo lo prendete e lo depositate sulla superficie di una sfera quando il quadrato si sveglia chi cosa fa? va fuori di testa non si accoraggia di nulla? è stato estratto dal suo mondo bidimensionale ed è stato messo sulla superficie di una sfera quante dimensioni ha la superficie di una sfera? la superficie due la sfera è tridimensionale quindi lui striscia allegramente non si accorgesi di niente striscia allegramente sulla superficie della sfera perché non percepisce la terza dimensione quindi lui che universo è? è un universo a due dimensioni che percepisce incurvato su una terza dimensione che non percepisce ma non vuol dire che non c'è noi siamo in un universo a tre dimensioni che percepiamo incurvati su una quarta dimensione che non percepiamo ma non vuol dire che non c'è però è misurabile e sappiamo come si comporta interagendo apprezzato nello spazio quadradedizionale di sopra e sotto svanisce non c'è più anche perché è un buco esferico il percepimento lo percepisce dal punto di vista psicologico cioè io lo percepisco da percepire dai 40 anni in su un po' lo ho fatto i 40 anni in questo da percepire è psicologico oppure lo vedi perché il sole è tramonta ma sei vincolato sul tuo pianeta Terra che è un anno di 365 giorni un giorno di circa l'ultimo pianeta estrasolare che mi ha scoperto ha in orbite intorno alla stella in 2 ore e 56 minuti l'anno dura 2 ore e 56 minuti ma è che mi stiamo abituati così su una pulsa una nuova è un secondo dipende dal contesto in cui ti trovo domanda semplice ma vediamo il buco nero quindi mi ha detto che il termine di una stella è uno dei tipi di fine di stella diciamo sappiamo che all'interno di un buco nero il tempo rispetto a chi è esterno rallenta in maniera formigabile è possibile che il buco nero non sia altro che un'esplosione con una fine stella talmente cioè repentino ma che noi non possiamo mettere all'esterno se non dopo migli anni di anni cioè uno stato frizzato di una stella che deve morire definitivamente allora la risposta è scusate che mi domanda la domanda la risposta è no nel senso che proprio come l'elitto cioè tu puoi ipotizzare che una stella di grande massa diventerà un buco nero osservandola perché puoi valutare la massa già quando dirai diventerà dipende da quanto è distante se questo è il discorso perché può essere già che lei è già un bel colpo ok è già successo con la cosa di quella nel passato infatti quando ho detto il nostro buonero c'era un assiccio al centro della nostra galassia è tranquillo la frase giusta è 26.000 anni fa e era tranquillo perché siamo a 26.000 di luce di distanza ok quindi c'è sempre qua ci spingiamo sì sì quello quello c'è quello teoricamente c'è qualcuno che ricerca stefio che è stato con i collettorizzati sono i buchineri quantistici non c'è l'altro giorno abbiamo fatto c'era Black Friday non abbiamo fatto Black Hole Friday e abbiamo fatto questo calcolo per i buchineri quantistici e veniva fuori che il raggio di sbarci di un buchinerio quantistico quindi se ci mette la massa di Planck è 2,18 per il c'è almeno 34 metri però è corretto un limite ragionevole perché all'occasione anche lì c'è il 35 quindi si ipotizza che nell'universo primordiale possono essere formati tanti micro buchi neri quantistici ma lì prove quantistici cioè questo è un altro tipo di terminologia io sono fedele all'attività generale e l'attività generale è fisica classica cioè studia gli effetti gravitazionali sul macroscopico con la quantistica è quello che ha avuto il suo atorico si basa su un principio di determinazione quindi va bene tutto ci sta la quantistica abbiamo tantissime applicazioni quantistiche oggi lei non potrebbe scoprire un cd o un dvd o un bluese però se ci portiamo agli estremi è fuorissimo certo la grande unificazione sarà proprio unificare in realtà con la piccola quantistica cioè quantizzare la gravità e dove puoi farlo sull'orizzonte di un bluco nero per quello che tutti si incastrano lì perché è lì che effettivamente può venire la grande unificazione ok e Hawking era lì vicino a trovare qualcosa di interessante ha risolto anche il paradosso forse il paradosso dell'informazione e tante altre cose aveva ha ipotizzato matematicamente accettabili le evaporazioni di buchi neri anche quelli più piccoli effetti quantistici prossimità dell'orizzonte di eventi grazie all'integno di quantistico però mi raccomando qua una cosa la devo dire quando si parla di meccanica quantistica si parla di particelle subatomiche perché l'altro giorno dove ho parlato mi hanno invitato però io in baradosso sono anche il presidente del CICAP la comitata d'Italia ha più controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze quello che era il parano ma l'ho invitato da un maestro yoga perché questo volava e attraverso i muri ok allora ho detto vabbè a vedere scoperto quel quadro incredibile no e lui facendo yoga spiegava tutte queste bellissime cose di quantistica e io faccio queste conferenze perché vi parlo di yoga no quindi io ho inzato la mano penso che pensate yoga tutti i muri ma lei ha una laurea no perché sta dicendo delle lauree fuorissime cioè quando parlate di meccanica quantistica quelle leggi sono comunicabili un elettrone non un corpo macroscopico io sono soggetto alla gravità sono soggetto a livello microscopico alle leggi quantistiche per la meccanica quantistica io ho una probabilità non nulla di attraversare quel mondo non scopro neanche ok quindi mi raccomando quando sentite medicina quantistica tutte quelle robe lì ragazzi è una particella subatomica non un corpo macroscopico ok la probabilità che tutte le vostre particelle risuonino nella giusta fase quantistica in modo tale da poter attraversare il muro si può essere come fare cioè un miliardo di miliardo di miliardo di miliardo di miliardo di miliardo di volte di seguito sarà il supermerotto può la probabilità è non nulla grazie questa è la superissima lezione e volevo chiedere sui plaza sono stati osservati la reazione di sincrotrone ora tornando all'evento del 2017 del mercio di due buchi di due estremi neutroni anche lì si è vista la reazione molto elevata si parla di ancora di 60 miliardi di fotoni al secondo che si è nella conclusione di primordiale ma nel plaza ha il punto 2.12 2.11 tempo l'imano si vede la reazione di sincrotrone e quindi si sospetta un metro di particelle che si creino la materia e chiedo è possibile che nel futuro ancora oggi non abbiamo le quantità sufficienti per definire questo ma in un futuro successivo di situazioni di plaza e di ci possano portare il sospetto che freddoio è la ragione che mi metti meglio che teano materia anche in ilio idrogeno mondiale che ti hanno un po' di un genere vuoto quindi da e non so come dire in modo e se anche la cosa cioè lei ipotizza che le prossime mentali che abbiamo ad oggi non confutino ancora il modello stazionario in un certo senso se la di un risveglio se 22 in e in 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 abbiamo in 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 ma gli AVE o 3212, in razza, che sono centinaia, vedono sempre le relazioni di sincrotroni che è formazione di materia più mondiale. Allora, le relazioni di sincrotroni, ho l'ho aperto apposta questa, entriamo molto nel dettaglio. Allora, questa è una diatriba che è aperta, non tra mele, tra le persone che accettano il modello del Big Bang, cioè la formazione dell'universo da un tempo t uguale a zero, poi c'è un'evoluzione, questa primordiale esplosione, così chiamata che è la via dell'esplosione dell'universo, e poi c'è un altro gruppo invece, questa diatriba potente intorno al 1946-47, se non ricordo male, capeggiata appunto da Fred Oil, che è il modello stazionario, cioè l'universo è sempre esistito e c'è una continua creazione di massa. Entrambe le teorie andavano tutte e due bene, perché di mezzo c'è il concetto di densità dell'universo che deve essere sempre la stessa, cioè l'università dell'universo primordiale è quella che abbiamo oggi ridistribuita in qualche modo, tutte e due le teorie andavano bene, una poi è stata accettata perché viene fuori il concetto di temperatura, c'è una funzione di stato che prevale che la temperatura, c'è l'universo prima era più caldo, adesso più freddo, prima si è sparso per qualsiasi gas, e quindi decade il modello stazionario e prende piede il modello di evoluzione dell'universo basato sulla teoria del clipeco. E qualcuno ancora cerca appunto zone dell'universo in cui ci sia formazione di materia, perché se l'universo si espande e si crea materia dal nulla, può essere, perché quantisticamente fluttuazioni quantistiche del vuoto di particelle virtuali possono diventare reali, c'è da essere questa grande, enorme emissione di materia e quindi da qualche parte l'universo si espande, la densità è la massa fratto il volume, la densità resta comunque costante, la massa viene fuori, il volume aumenta e quindi può funzionare. Il modello stazionario taglia via anche tantissime problematiche che esattano alla scienza, ma che rientrano nel campo della filosofia e della religione. In un modello stazionario non c'è spazio per un Dio, l'universo è terra, è sempre esistito. Cioè ci sono anche complicazioni di altro genere che rientrano poi in questi modelli. La risposta è, già è una risposta, non è una sola risposta, però all'interno dei fasci collimati di implanza, di quadro in generale, della radiazione di sincrotone c'è, c'è Brestrago, sincrotone, Compton, Compton inverso, c'è di tutti i generi perché sono particelle oltre relativistiche, cioè che si muovono a velocità prossima a quella della luce e che si muovono all'interno del campo elettromagnetico. Quindi sono effetti di fisica standard solo oltre relativistici, cioè a velocità prossima a quella della luce. Quella materia che può essere intrappolata nel getto o sputata fuori, fatevi passare il terreno nel getto, è materia del disco da crescimento, non arriva da chissà dove, non arriva dal dentro l'orizzonte degli eventi. Non è il buco nero che sputa fuori, è la gabbia magnetica intorno all'orizzonte degli eventi, a distanza di sicurezza, che intrappola la materia che arriva da fuori. Infatti vi ho detto che il buco nero si mangia più o meno il 40% della materia, non tutto, che viene ingabbiata e sputata fuori. Quindi è la materia stessa del disco da crescimento. Sì, no, ho capito dove vuole arrivare. Allora, noi consultori che provengono da la base possiamo valutare tranquillamente. Se vuole non ne parliamo dopo, non vediamo la discussione molto... Niente, però volevo dire un'altra cosa. Bene, bene, bene. Ah, che studio nell'attività generale, io mi occupo fondamentalmente dell'evoluzione dell'universo. Il Big Bang non può dirti come è nato l'universo. La teoria del Big Bang è una materia classica. Si vada sulla gravità. Non ci dici niente sulla storia. No, è una materia classica. Non può. Se lo parla sul macroscopico. È la meccanica quantistica che indaga le condizioni che hanno determinato il Big Bang. Il Big Bang è una teoria classica che rispia come evoluce l'universo, non come è nato l'universo. Non può farlo. Ok? Parlo così, dai. Si. Ci sentiamo. Quando... Prego. Non direi. Quando ha parlato dei buchi dei supermassicci, riferendosi a quello che è stato 8 miliardi di anni fa, a di anni in luce, mi è sembrato di capire, se lo capito correttamente, che questi buchi dei supermassicci vanno ricercati comunque gli oggetti in galassie molto distanti, e quindi anche molto antiche. Si, anzi, in qualche... Quindi si sono formati, in realtà, solo galassie giovani. Allora, infatti è un casino. Nel senso che i vicini non li trovi, poi li trovi, più o meno tra 1-4 miliardi della luce di distanza, e prima non li trovi. Quindi un'ipotesi è che il nucleo galassico attivo sia una fase evolutiva della galassia stessa. Nasce in qualche modo, diventa attiva, e poi diventa attente. Infatti ci si chiede se è nato prima un uomo o una gallina, e i cosmologi si chiedono se è nato prima la galassia o il buco nello supermassiccio. Però se fossero più giovani i buchi supermassicci, a un certo punto, dovrebbero... Allora, più giovani non va bene, vi devi dare un punto di più giovani rispetto a... cioè, loro vivono loro presente, tu li guardi come erano 8 miliardi di anni fa. Siponiamo la mia galassia, da lì di 26 miliardi di anni fa. 26 miliardi di anni fa, sì. Sì. Supponendo un'evoluzione galattica, ogni galassia avrà avuto una sua evoluzione. Sì. Noi stiamo guardando quello di 8 miliardi di anni fa e guardiamo invece quello al centro della nostra galassia che è invece... 26 miliardi. 26 miliardi di anni fa. Quindi c'è una grande quantità di differenza. possiamo immaginare che quello di 26 miliardi di anni fa fosse 8 miliardi di anni fa come quello là. Ah, ok, ho capito. Nel senso, il buco nero è supermassivo. No, no, ho capito, capito. È ancora più figa la cosa. Nel senso che se qualcuno è sul CTA 102 che ci sta osservando, lui ne ha grazie normale, noi siamo un quasar. è l'altro. Assolutamente. Cioè, funziona anche dall'altra parte. Guardare indietro nel tempo, lo spazio-tempo, funziona anche di là. Cioè, io qua guardo indietro nel tempo. Infatti, lì è un altro modo per far si venire un'altra volta l'arma di testa. Se io guardo molto lontano, guardi indietro nel tempo, bene, quindi arrivo a un limite osservabile che è circa 13 miliardi e mezzo di anni in luce di distanza. Ok? Perché uno può dire se guardi lontano o lontano nel tempo, costruisci un vetro di scopo grosso, guarda così lontano da vedere Big Ben se c'è stato o Dio se vive sul suo trono. Non puoi farlo perché da 0 a 400 mila anni più o meno di vita dell'universo è un plasma, quindi la luce non filtra, non puoi guardare dietro. Ok? Poi pochi dimostrano matematicamente che ne siamo andati da una singolarità. No, questo è un altro discorso. Quindi non possiamo vedere, possiamo arrivarci con l'estrapolazione matematica del celebratore di particelle e quant'altro. Bene, allora io guardo al limite osservabile che è lì più o meno dove c'è l'origine dell'universo secondo me. Ma se qualcuno sta vivendo in quel momento lì e guarda noi, lui e lui è il suo presente e noi siamo all'origine per quello che non puoi identificare un centro, non puoi identificare un confine perché sono esempi tridimensionali. Certo, quindi si può anche ipotizzare, forse stai facendo, una evoluzione dei buchi neri nel tempo. Cioè, il buchi nero non è un oggetto fisico. varia la massa, la varia la massa, la varia la massa, la varia la densità, la varia la velocità, la mutazione, la metacolare, la carica e la mutazione di lui. qua sto, qua sto. Grazie a tutti.